Andrea che cosa ci dici su questa mostra e soprattutto su questi due premi che avete messo in campo? Siamo molto contenti di aver organizzato questa seconda edizione del premio Castello e ricordiamo che c'è sia un premio per la giuria tecnica e poi un premio per la giuria popolare la giuria popolare è composta da tutti i visitatori di questa mostra che potranno votare il quadro più bello che insomma ritengono più bello. Il premio della giuria tecnica è un premio di mille euro invece chi vince il premio della giuria popolare avrà la possibilità di esporre per un mese qui nel Castello di Grotone una esposizione personale. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere il Castello di Grotone non solo ai grotonesi perché comunque organizziamo questi eventi per avvicinare i grotonesi al castello ma essendo comunque una mostra di livello nazionale molti partecipanti vengono da fuori non sono tutti i Grotone ma anche fuori dalla regione e quindi questo ci permette di far conoscere la nostra bellissima fortezza anche fuori dai confini regionali. Quando si chiuderà questa mostra e quindi quando sarà consegnato il premio? La mostra durerà fino al 6 ottobre e la premiazione sarà fatta al set quindi fino al 6 ottobre è possibile visitarla e quindi ricordo che c'è la possibilità di votare quindi essere un po' giuria anche di chi visita. Quante sono le opere esposte? Le opere esposte sono 30 ma i partecipanti al concorso sono stati tantissimi infatti è stata fatta una selezione però insomma per motivi di spazio alla fine sono state scelte 30 opere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.